La storia è una storia ambientata in un mondo molto simile al nostro, solo dove gli esseri umani sono sostituiti da diavoli e angeli. La protagonista è appunto Paprika, che è una workaholic fissata col suo lavoro, così fissata che sembra tralasciare tutto il resto. Sembra anche molto dura apparentemente come persona, anzi come diavola. Lei appare molto dura, in realtà nasconde un animo molto fragile, dovuto al fatto che ha vissuto un'infanzia un po' particolare e una relazione non molto felice. E in questa storia lei diciamo che ritrova un po' se stessa e impara a crescere, come se fosse maturata in ritardo rispetto alla norma. Sicuramente appunto anche è una lettera d'amore alle persone per dirle di vivere serenamente il sesso, di vivere serenamente i rapporti con le altre persone, cosa che Paprika inizialmente non fa e durante la storia impara a conoscere meglio, ad aprirsi agli altri. Sì, io sono sempre... non amo raccontare la realtà così com'è. Mi piace sempre inserirci da qualche parte un pizzico di magia oppure di fantasy. Sweet Paprika sarebbe una storia normalissima, assolutamente umana, realistica anche. che semplicemente ho usato gli angeli e il diavoli per renderla un po' più divertente, un po' per giocare sui contrasti angelo e diavolo e per renderla anche più divertente da disegnare, da lavorarci insomma. Mi sono ispirata moltissimo alle commedie romantiche americane, di strada americana in generale, in particolare il diavolo Veste Prada, infatti Paprika somiglia molto a Miranda, una versione un po' più giovane e diabolica ovviamente. Ma c'è anche molto di umorismo giapponese da manga. Amo molto a Gretsuko, che tra l'altro ha un'ambientazione anche simile, c'è comunque una protagonista che si arrabbia molto in ufficio, diciamo così. C'è il capo di Paprika, che sarebbe sua oscurità, che è questa figura malefica, è proprio un diavolo, proprio un diavolo puro, è proprio un demone, vero e proprio, però nonostante il suo aspetto inquietante, in realtà è dolcissimo. Al momento stiamo anche lavorando con Arancia Studio e Image Comics, un'antologia dove ci saranno autori, scrittori, disegnatori ospiti e sarà ambientata comunque post la storia principale, la serie principale. Poi in futuro non so se continuerò le sue avventure, diciamo, però per adesso sono soddisfatta così.